Buongiorno, secondo appello della seduta di consiglio della quinta circoscrizione del 20 maggio 2021 sono le 11.54, proseguiamo con l'appello. Teresi, assente. Aiello, assente. Altadonna, assente. Cavaliere, assente. Di Gesù, assente. Figuccia, assente. Losardo, presente. Lucido, assente. Palazzo. Assente. È stabile. Assente. Quindi abbiamo nove assenti e un presente. Quindi non siamo in numero legale, la seduta viene rinviata a domani, stessa ora. Buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno e buon lavoro. Grazie a te tantissimo. Sto spento, Umberto.